James Buchanan è un economista liberale classico americano, scomparso nel 2013, cofondatore insieme a Gordon Tullock della scuola di Public Choice e insegnito per questo del premio Nobel per le scienze economiche nel 1986. Perché parlarvi di Buchanan? Varie buone ragioni, non ultima il fatto che ci sono alcuni aspetti del progetto europeo che possono essere collegati al pensiero di Buchanan, che mi piace richiamare e che farò dopo averne illustrato gli aspetti fondamentali. Innanzitutto qualche breve nota di inquadramento dello studioso. Buchanan inizia la sua attività di ricerca presso l'Università di Virginia, Charlottesville, a ritorno dal suo viaggio di studi in Italia nel 1957. Successivamente, dal 69 all'83, si trasferisce al Virginia Polytechnic Institute a Blacksburg, dove dirige il centro for study of Public Choice, che dal 1983 sarà trasferito a George Mason University. La formazione di James Buchanan è stata in realtà profondamente segnata dalle analisi di alcuni studiosi della tradizione economico-finanziaria europea, penso allo svedese Wixel, e soprattutto gli studiosi italiani di indirizzo liberale, De Viti De Marco, Mazzola e De Naudi. È stato appunto segnato in particolare dall'attenzione rivolta al fenomeno finanziario come scambio volontario tra l'individuo e lo Stato, in un'impostazione contrattualistica o catalattica, per usare la terminologia originaria dello stesso Buchanan. L'elemento dell'equazione, che è proprio del potere pubblico e in particolare dell'attività fiscale, non poteva essere accettata a suo parere senza un sistema di garanzie che assicurasse il rispetto dei diritti e delle preferenze individuali. La teoria di Public Choice consiste nello studio economico delle decisioni non di mercato, ossia nell'applicazione dei metodi della teoria economica all'analisi dei processi politici volti a realizzare le scelte pubbliche. La prima presentazione sistematica di questa impostazione scientifica è contenuta nel Calculus of Consent, pubblicato nel 1962, in cui Buchanan e il suo coautore, Tullock, analizzano i fondamenti logici della democrazia costituzionale combinando l'approccio dell'individualismo metodologico, che colloca l'individuo al centro dell'analisi, con il paradigma dell'homo economicus applicato invece all'individuo che opera nell'ambito delle istituzioni. Secondo Buchanan non esiste in astratto il concetto di interesse pubblico, le scelte collettive sono piuttosto il risultato dell'aggregazione delle preferenze individuali attraverso le regole decisionali. In altri termini, l'azione sociale è il risultato delle azioni di individui che avendo scelto di perseguire i propri scopi collettivamente, piuttosto che individualmente, partecipano al processo decisionale in qualità di elettori, di politici, di burocrati, di gruppi portatori di interessi specifici. Gli Stati e le comunità sono dunque aggregazioni di individui e le istituzioni un insieme di processi e di meccanismi che consentono all'azione collettiva degli individui di avere luogo. In particolare, le decisioni relative alla tassazione e alla spesa sono il risultato di un processo politico in cui tutti gli attori che vi partecipano sono agenti razionali che massimizzano la propria utilità e rispondono a vincoli esterni che sono appunto rappresentati dalle istituzioni e anche ai mutamenti di tali vincoli prodotti dal consenso degli interessati. La differenza fra il mercato e il processo politico come meccanismi di decisione economica non risiede dunque nel tipo di valori, interessi e obiettivi perseguiti dagli attori, quanto piuttosto nei diversi vincoli e incentivi che questi attori incontrano rispettivamente nei due diversi contesti istituzionali. Un altro passaggio degno di nota avviene invece successivamente nel libro Democracy in Deficit, l'eredità politica di Lord Keynes, pubblicato con Richard Wagner nel 1998. In questo lavoro Buchanan analizza le prescrizioni chinesiane attraverso la lente della public choice. Ricordo che ai tempi della pubblicazione del libro l'economia chinesiana dominante era stata ampiamente discussa nei libri di testo, negli articoli scientifici, nel dibattito politico, ma non era stata data alcuna attenzione alle implicazioni politiche della teoria stessa. L'argomento di Buchanan e Wagner è quindi quello che in democrazia la teoria chinesiana applicata appunto alle scelte di bilancio genera conseguenze intenzionali e favorisce la tendenza della classe politica a spendere piuttosto che a tassare e a finanziare la spesa pubblica in disavanzo, ricorrendo sistematicamente all'indebitamento. Questo in quanto i costi della tassazione sono diretti, sono visibili, sono immediati, laddove i costi del debito pubblico non lo sono altrettanto. Ne consegue dunque l'opportunità di limitare la discrezionalità dei decisori pubblici attraverso il ricorso a regole, preferibilmente costituzionali, che disciplinano la finanza pubblica per garantire la sostenibilità e la crescita economica di lungo periodo, piuttosto che quanto produce la politica ordinaria. Non possiamo offrire consigli ai politici, dicono Buchanan e Wagner, ma possiamo offrire previsioni su come questi stessi politici si comporteranno a seconda dei vincoli o degli assetti istituzionali in cui operano. Secondo Buchanan, dunque, non esistono risultati ottimali di per sé, ma procedure istituzionali ottimali con cui si perviene a tali risultati. Se queste sono basate sull'unanimità o sulla quasi unanimità, esse sono accettabili in quanto risultano la conseguenza di un accordo liberamente raggiunto tra i cittadini o tra i loro rappresentanti. Ricordo anche che le scelte e le regole del gioco nella fase costituzionale avvengono appunto in una situazione di incertezza in cui i partecipanti non conoscono esattamente quali saranno gli effetti di queste scelte sui propri interessi. Concludo con una breve riflessione della relazione che il pensiero di Buchanan ha avuto con il progetto europeo. Come dicevo in apertura, il suo pensiero ha avuto una notevole rilevanza a mio avviso e una profonda significatività rispetto al progetto europeo fin dagli origini e mi piace individuare alcuni aspetti che a me sembrano cruciali con riferimento all'Europa. Innanzitutto l'importanza della determinazione di diverse maggioranze di voto qualificate e differenziate in base al tipo di scelte interessate o le caratteristiche dei contesti nonché il superamento dell'idea che la regola della maggioranza semplice sia l'unica regola di decisione ottimale. L'importanza delle regole fiscali nei paesi della zona euro appunto, regole che sono improntate al principio della prudenza e del rigore fiscale e che a partire dal 92 nelle successive articolazioni sono volte a favorire condotte economiche responsabili ed efficienti. L'assetto federalista dell'Unione Europea che in linea con la visione di Buchanan di un decentramento concepito come una sorta di limitazione del potere dell'Evietano realizza i benefici generati dalla concorrenza fra Stati e territori. Infine, sempre muovendosi in una logica contrattualistica che è propria dell'intero pensiero di Buchanan, l'idea che la Costituzione Europea possa costituire la sede per contemperare il livello ottimale di cessione dei poteri da parte dei singoli Stati a favore dell'Unione Europea in cambio di maggiori diritti politici, economici e sociali individuando una sorta di dimensione ottimale, federale, nazionale, locale, per le diverse funzioni in base alle loro specificità.